Una questione di provvidenza. E' questo il nome dei due trust domiciliati alle Bahamas e riconducibili a John, Lapo e Ginevra il Cannes. Provvidenza Settlement e Provvidenza Seconda Settlement hanno sostituito, nel 2014, la società Bundina Consulting, con sede nelle isole vergini britanniche che deteneva il tesoro estero dell'avvocato Gianni Agnelli, passato alla moglie Marella. La dotazione dei due fondi è stata stimata in circa 600 milioni di euro, nel 2019 alla morte di Marella. La loro successiva rivalutazione sarebbe poi arrivata a circa 720 milioni di euro. C'è poi il capitolo del corposo compendio di opere d'arte e gioielli di ingentissimo valore, circa 170 milioni di euro, appartenuti alla Caracciolo, in parte donati ai nipoti Elkan. Beni che, secondo i magistrati, sarebbero stati scelti dagli indagati e mai regalati. Si parla, tra l'altro, del Glasson e Feblen di Monet, valore stimato oltre 17 milioni di euro, e del Basquiat di Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat da 2,5 milioni. Le presunte donazioni avrebbero fruttato ai tre fratelli circa 170 milioni. Gli avvocati della difesa ribadiscono la perfetta liceità delle operazioni. Il sequestro preventivo di 74,8 milioni disposto dalla procura di Torino equivale alla presunta evasione di imposte sui redditi e di successione poiché Marella, come la figlia Margherita sta cercando di dimostrare, dimorava stabilmente in Italia e non in Svizzera. La vicenda si intreccia con la crisi di Stellantis che lunedì 30 settembre ha lanciato un allarme utili sul 2024. Mentre la famiglia litiga sull'eredità dell'avvocato, le fabbriche italiane attraversano uno dei periodi più difficili della loro storia.